Soprattutto per creare un po' l'appartenenza e il senso del festival allargato. Noi andiamo a focalizzarci su un'utenza che ha l'esigenza di andare al festival per vedere quello che succede ma di renderlo partecipe dal mattino fino alla sera o comunque sfruttare tutti quei momenti morti che non saprebbe cosa fare in città in una serie di eventi. Utilizzando però l'engagement attraverso un'applicazione che coinvolgerà l'utente nello scoprire che cosa accadrà anche se si spazia.